Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Caro saluto a tutti i nostri ascoltatori La Fiorentina perde a Parma 1-0 a causa di una sfortunata autorete di Gerson nel secondo tempo della gara Nel finale espulso anche l'allenatore Vincenzo Montella che scarica la sua frustrazione per il risultato contro un cartellone pubblicitario Soddisfazione invece tra le fila dei ducali per la salvezza conquistata Adesso la Viola dovrà giocarsi la salvezza con il Genoa dell'ex Prandelli nella prossima sfida Oggi a partire dalle ore 11 la Fiorentina tornerà ad allenarsi al centro sportivo Davide Astori Nessun giorno di riposo quindi per la formazione gigliata Per Fiorentina1.com Lorenzo Somigli ViolaTweet a cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola